La veloce e i terribili ha Arpia, il coloratissimo diara e Tucano La misteriosa apila Astore, scopri tutti i segreti degli uccelli più belli e colorati Trova i grilli, l'amuio e i cambiacolori AnimalDiscovery, dominatori dei cieli tropicali Domina i cieli Gente! Tengo in mano un armese così potente che può addirittura aspirare l'aria dal cielo! Cosa gli hai fatto? Maledetto! Dove è mio padre? Dove è Dila? Ci sarai capersi di resistere, tagliate! Viva per poco! Tu hai attesa e gli torci anche solo un capello!